e c'è lì sottofondo nexus piaccia volare nexus e c'è lì ah, silence quindi si può parlare ok ok è lì è lì ancora no 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 Oh Oh Allora, un momento, no, così no, questa cosa, ok, ah, no, qui, ah, ok, a ver, sta bene, Oh Dio, ok, 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 ok Grazie. Oh, finalmente gli occhi. Ok. 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 Grazie. 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 Oh, finalmente. I capelli. Benissimo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Oh, dear. Oh. Oh. You dropped them on. I don't know. Oh, she don't already dropped her pants. Hey. Oh. 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 bella casa bella vista bella 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.